Benvenuti nel mondo FPJORN. FPJORN è un marchio di orologi di lusso che ha fatto della precisione e dell'eleganza il proprio marchio di fabbrica. Fondato nel 1999 dal designer e orologiaio François Paul Jorn, l'azienda ha sede a Ginevra, in Svizzera, e si è distinta nel corso degli anni per la produzione di orologi altamente complicati e di alta qualità, realizzati con materiali pregiati e con una particolare attenzione ai dettagli. Il marchio FPJORN è noto per l'uso di movimenti meccanici di elevata precisione, realizzati interamente in-house, e per la cura artigianale con cui ogni orologio viene assemblato. Tra i modelli più noti di FPJORN vi sono il Tourbillon Suvera, il Cronometra Resonance, e il Cronometra Blue, tutti caratterizzati da un design elegante e raffinato, e da una precisione che ha reso FPJORN uno dei marchi di orologi più apprezzati al mondo. Il Tourbillon Suvera, ad esempio, è un orologio altamente complicato dotato di un movimento meccanico di elevata precisione, realizzato interamente in-house. Questo orologio è caratterizzato da un design elegante e raffinato, e da una precisione unica, che lo rende uno dei modelli più apprezzati dagli appassionati di orologi di lusso. Il Cronometra Resonance, invece, è un orologio altamente complicato dotato di due oscillatori che lavorano in sincronia per garantire una precisione ancora maggiore. Ma FPJORN non è solo sinonimo di alta qualità e di precisione. L'azienda è anche impegnata nella promozione della sostenibilità ambientale attraverso l'uso di materiali ecologici e l'adozione di pratiche produttive a basso impatto ambientale. In sintesi, se siete alla ricerca di un orologio di lusso che unisca eleganza, precisione e attenzione alla sostenibilità ambientale, FPJORN è il marchio che fa per voi. Grazie alla sua cura artigianale, alla scelta dei materiali pregiati e alla sensibilità nei confronti dell'ambiente, FPJORN è riuscita a conquistare un posto d'onore tra i marchi di orologi di lusso più apprezzati al mondo. Grazie a tutti.